Cari amici followers, mentre oggi martedì 27 ottobre 2015 passavo il pomeriggio in compagnia dei mitici super assorbenti perché un certo Berlusconi mi vorrebbe impotente, le aliene poco fa confessavano che sapientemente guidate da un certo Ratzinger volevano proprio uccidermi in Francia, arrivando addirittura a rubare i farmaci necessari alla mia convalescenza riabilitazione. Mi si prospetta una serata con il cervello in fiamme, saluto pertanto gli amici del pianeta Terra. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi.